Sovente durante una terapia di coppia emergono dalle famiglie di origine dei due partners storie di vita problematiche che in genere vengono rimosse. Sappiamo che la mente ci riporta al passato quando viene riattivata da un evento, una situazione, uno stimolo nel quale è stato necessario costruire delle difese che possono però diventare ostacolo relazionale nel presente. Quando in una coppia i partners si avvicinano con più chiarezza al bambino ferito dell'altro e comprendono che possono involontariamente riattivare quelle ferite, si può iniziare ad intraprendere un modo di comunicare più efficace e funzionale diremmo. Vedere cioè il bambino ferito del partner li avvicina a come sente l'altro, cosa lo fa stare male e cosa lo aiuterebbe. Questo allora diventa uno degli obiettivi su cui lavorare nel percorso con le coppie. Vale a dire prendersi cura dei propri nodi di dolore e al tempo stesso cercare di non riattivare quelli del partner. Ciò significa assumersi la responsabilità del proprio cambiamento e sviluppare empatia verso la sofferenza dell'altro. Quando questo accade vediamo che la coppia ritrova la connessione, i due partner iniziano a cooperare per sciogliere i nodi del dolore, navigare meglio in sicurezza e ritrovare quella sintonia che avevano perduto.